Sarà collocato nei pressi del liceo Vico di Sulmona, dove Fabrizia Di Lorenzo ha vissuto la sua formazione scolastica, il monumento che ricorda la giovane di Sulmona vittima della tragedia di Berlino. Da quel terribile 19 dicembre 2016 è già passato un anno. Fabrizia nel frattempo è diventata la sorella, la figlia, l'amica che tutti portano nel cuore. A un anno della tragedia, il prossimo 18 dicembre alle ore 17.30, presso il Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, e il comitato, insieme a Fabrizia, tenere un incontro tanto per ricordare la giovanissima di Sulmona quanto per ribadire che la cultura è l'arma migliore per contrastare la violenza e il terrore. Il programma completo della giornata sarà reso noto solo nei prossimi giorni, ma il filo conduttore è stato anticipato da Rosa Gianmarco, componente del comitato, presieduto dalla mamma di Fabrizia, Giovanna Frattaroli. All'appuntamento parteciperanno anche alcune cariche istituzionali. Uno degli obiettivi del comitato per il 2018 è proprio la realizzazione del monumento. Entro la prossima primavera, il cui progetto deve ancora essere presentato, ma per la costruzione dell'opera è già arrivato l'ok del comune. Non un'iniziativa solo commemorativa, ma un modo per invitare, soprattutto i più giovani, a crescere nella cultura per combattere la violenza scelerata. La vita di Fabrizia si è spenta a 31 anni. Con lei è andato via anche il suo splendido sorriso. La ragazza è una delle tante giovani che sognavano una normalità. laureata all'Università della Sapienza di Roma in mediazione linguistico-culturale, dal 2009 al 2012 ha preso una laurea specialistica in relazioni internazionali e diplomatiche a Bologna. Poi l'esperienza dell'Erasmus in Germania, dove ha imparato il tedesco come l'inglese in maniera perfetta. Nel 2007 un periodo di lavoro a Vienna. Dopo le lauree, lavorò per sei mesi, fino a settembre 2012 in Italia. Poi trasferimento a Berlino, dove si trovava bene e aveva trovato un lavoro. In occasione del primo anno della scomparsa della giovane si terrà anche un concorso internazionale di opere d'arte. Parallelamente prosegue il percorso delle dieci borse di studio, già assegnate dall'Università dell'Aquila, sempre in memoria di Fabrizia.